Il Signore mi ha fatto attraversare tanto. Andrete per molti anni, parro, poi vescovo, in giro, a Termoli, poi a Foggia, poi sono tornato a casa, qui, per sei anni con sprovescovo, e poi mi hanno mandato via da casa, e sono andato e sto a legge, un grande giorno. Questa sera devo ringraziare il Santo Patrono perché mi ha guidato in tutti questi anni. La sua parola, dice il libro della scrittura, bruciava come fiaccola, nella fiaccola a te, e il profeta tra le mani. Continua ad avere il coraggio e la forza del profeta Elia, nell'annunziare la parola di Dio e per denunziare le iniquità degli uomini. Viva Santa Elia profeta, vi benedica, vi proteica e accompagni sempre. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.